Sono Alessandro Maione, in Artecresi 7, anche se tutti mi chiamano Pazzosette e vengo da Napoli. Il mio ingresso nel Verona è stato dettato dal raggiungimento della qualifica al draft della Serie A ed è stata la prima società che si è fatta avanti ed è stato facile, insomma, entrarci. Per quanto riguarda ragazzi e staff, non potevo desiderare di meglio perché sono tutti molto calorosi, molto ospitali e mi ci trovo molto bene con i ragazzi, ho anche giocato, con Fentix soprattutto, quindi il rapporto è molto naturale. Io ho cominciato a legarmi al competitive di FIFA, a FIFA 20, poi ho dovuto interrompere causa lavorativa, infatti ho lavorato per due anni abbandonando completamente quell'aspetto, poi quest'anno invece ho deciso di prendere una decisione importante che è stata quella di lasciarlo completamente il lavoro e dedicarmi poi interamente a questo mondo qui e il fatto di essere qua adesso vuol dire che forse magari avevo ragione. Sicuramente un aspetto fondamentale sul quale potrei migliorare è la testa, perché per quanto io sia molto paziente magari in certe situazioni, spesso magari a causa di alcuni avvenimenti cedo un po' di testa, quindi viene a mancare anche la lucidità e sicuramente potrei migliorare su quello che poi chiaramente sul gameplay incide e si nota tanto. I miei obiettivi per questa stagione, onesto, è di cercare di sfruttare al meglio ogni occasione possibile, a partire anche da questa Serie A magari, quindi non so quante partite giocherò, ma spero di poterle giocare al meglio a prescindere di quante saranno, ma in generale comunque cercare di centrare ogni possibile qualifica e giocarle al meglio appunto. Diciamo che se non fossi un pro player continuerei semplicemente la mia attività da streamer, che ormai già porto avanti da due anni, e porterei avanti semplicemente l'intrattenimento unito a un gameplay a questo punto non di alto livello. Il format della Serie A secondo me è un ottimo modo e anche un'ottima vetrina per dar spazio a tanti player che magari attraverso altre modalità non hanno moltissimo modo di mettersi in mostra e l'innovazione della Supercoppa di quest'anno è stata anche una bella idea secondo me e volendo potrebbero magari introdurre una Coppa Italia anche a fianco della Supercoppa in modo tale da renderla ancora più aperta. Le differenze tra l'e-sports estero e quello italiano probabilmente è anche una questione di strutture perché comunque all'estero ci sono tante strutture in più, tanti torni in più, quindi magari forse è arrivato il momento anche grazie appunto alla visibilità della Serie A di investire un po' di più e dare varie opportunità anche a chi magari appunto alla Serie A non ci arriva o comunque in generale rendere tutto il mondo qui in Italia molto più ampio per permettere anche ai giovani che magari non ne conoscono tantissimo di avvicinarsi anche loro. Allora io personalmente sono sempre stato un tipo che cerca di associare il calcio reale a quello videoludico insomma quindi idee e concetti cerco di applicarli sempre al meglio cerco di portare davanti sempre una mia idea di gioco anche se alcune volte non sempre è possibile perché appunto ci sono alcune meccaniche che magari nel calcio reale non possono essere effettuate ma che in realtà nel videogioco sono fondamentali. Sicuramente la cosa fondamentale all'uscita di ogni capitolo nuovo di FIFA è quello di giocare giocare tanto e giocare tanto e capire subito magari le meccaniche più importanti quelle che più possono funzionare ma soprattutto magari vedere altre persone giocare per cercare di rubare il prima possibile ciò che più funziona prima che poi magari diventino vecchi e quindi puoi impararne ancora di nuove e quindi cercare di stare sempre al passo insomma. Mi sono accorto di essere più o meno capace a giocare insomma su FIFA 20 perché è lì che ho centrato le mie prime qualifiche e giocavo più che altro per divertirmi poi ho visto che magari potevo ambire a qualcosa di più e sono arrivato poi fin qui capendo che potevo dare molto di più rispetto magari anche alla media insomma. Forse il segreto di avere una community solida e vicina allo streamer è quella di farli sentire come se fossero a casa loro quindi cercare di essergli il più naturale possibile, di essere se stessi e di coinvolgere il più possibili senza trascurarli e magari pensare soltanto a portare avanti il contenuto ma far diventare loro il contenuto insomma. Sicuramente in futuro non è detto che io faccia parte comunque di questo mondo perché comunque si sa la vita è imprevedibile però in tal caso voglio dirgli di dare sempre il massimo a prescindere da quale sia l'ambito e di farsi trovare sempre pronto insomma qualsiasi sia poi la situazione da affrontare.